Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo in compagnia del Huawei P8 Lite del 2017. Scopriamolo insieme. Vediamo dunque cosa si gera all'interno della confezione del Huawei P8 Lite del 2017. Si apre verticalmente e al suo interno troviamo ovviamente lo smartphone, di cui parleremo più tardi nella recensione completa. Troviamo anche un alimentatore da 1A, un cavo micro USB che serve per collegarlo per effettuare la ricarica o per collegarlo al PC, per effettuare diverse operazioni. E qua dentro dovrebbero essere presenti le cuffie auricolari che però non abbiamo e non abbiamo anche la manualistica di istruzione perché è una versione demo. Troviamo anche questa graffetta che serve per aprire il carrellino dove poi si andrà a inserire la SIM o la micro SD. Ma ora mettiamo tutto da parte e passiamo alla recensione completa. Passiamo quindi alla recensione vera e propria del Huawei P8 Lite 2017. Partendo dalle dimensioni vediamo che queste sono di 147.2 per la lunghezza e 72.94 per la larghezza per 7,6 mm di spessore con un peso di 147 grammi. Si differenzia dal modello precedente, soprattutto per i materiali utilizzati. Infatti il modello precedente utilizzava la plastica, invece questo modello utilizza metallo e vetro. Il vetro utilizzato nella scocca anteriore è posteriore, un po' bombato ai bordi. Invece il frame è realizzato interamente in metallo. Sul frame troviamo anche il bilanciere del volume con il tasto di accensione, spegnimento e di stand by. Troviamo il jack da 3.5 mm per le cuffie e l'altoparlante. Nella parte sinistra invece troviamo il carrellino per la nano SIM e per la micro SD. Al di sotto invece troviamo il microfono, uno speaker e la porta micro USB. Passiamo invece subito a vedere che schermo ha. Ha uno schermo da 5.2 pollici con una risoluzione 1080x1920. Cioè uno schermo in full HD con una densità di pixel pari a 424 ppi. Ha uno schermo 3C screen, capacitivo, IPS e LCD. Ovviamente è multi-touch come gli smartphone di quest'ultima generazione. Attraverso un video in full HD voglio farvi vedere come si vede lo schermo e soprattutto l'audio come si sente. Che vi posso garantire essere davvero davvero ottimo. Dunque entriamo su YouTube e sentiamo e vediamo questo video in full HD. Vi lascio alla visione. Avete dunque potuto vedere come si vedono i video in full HD. Vi posso anche dire che sotto la luce diretta del sole si comporta abbastanza bene ed al massimo della luminosità si riesce a vedere davvero tutto molto chiaramente. Ma dunque passiamo a uno degli aspetti principali di questo Huawei P8 Lite 2017. Passiamo dunque a vedere il reparto del processore. Il reparto del processore dunque utilizzato da Huawei per il P8 Lite è un Huawei HiSilicon Kirin 655. Precisamente è un octa-core. Però è partizionato in due processori da 4 core l'uno. Uno da 2.1 GHz Cortex A53 e l'altro da 1.7 GHz Cortex A53 e lavora a 64 bit. La GPU invece è una Mali T830 MP2 e il tutto è accompagnato da 3 GB di RAM. E come memoria invece ha 16 GB di memoria. È espandibile ovviamente fino a 128 GB grazie allo slot per la microSD dedicato. Dunque anche per la GPU vorrei farvi vedere come girano comunque un paio di giochi. Prendiamo subito questo qui, il primo. Giusto velocemente. I giochi infatti si presentano privi di lag grazie al processore che lavora davvero davvero molto molto bene. Il gioco, come state ben vedendo, scorre fluido senza alcun tipo di lag. Dunque andiamo a vedere invece un gioco un po' più pesante come Asphalt 8. Vediamo che per caricare il gioco impiega davvero pochissimo tempo. Ecco, il gioco è già partito. Ci basterà cliccare gioca per iniziare a giocare. Andiamo sulla carriera velocemente, giusto per vedere come gira il gioco. Iniziamo la gara. Iniziamo quindi velocemente a giocare. Il gioco, come state già ben vedendo, scorre abbastanza fluido. Lag non ne ho percepiti. Anche tutti i sensori presenti funzionano bene, come ad esempio l'accelerometro in questo caso. E dunque, avete visto che il gioco gira abbastanza bene. E dunque, dopo aver citato questi sensori, vediamo che i sensori presenti sul Huawei P8 Lite del 2017 sono, è presente l'accelerometro, come abbiamo visto sul gioco Asphalt 8, il sensore di prossimità che si trova qui, il giroscopio, la bussola e il sensore di impronte digitali. E quest'ultimo merita un focus al riguardo. Infatti, il sensore di impronte digitali risulta essere davvero fluido, sicuro e molto, ma molto preciso. Infatti, non sbaglierà mai a prendere l'impronta del vostro video per farvi sbloccare il telefono. Infatti, vi faccio vedere subito una prova. Il telefono attualmente è chiuso. Io mi posiziono subito. Oh, non l'ho cliccato. E si apre, è davvero in un millisecondo. Vi faccio rivedere. Ed è già aperto. Il sensore di impronte digitali, però, non è cliccabile. È soltanto il sensore, senza nessun altro tipo di tasto. Invece, per registrare le impronte sul telefono, ovviamente, vi basterà andare tra le impostazioni. Vi ricordo anche che la prima impronta che registrerete sarà, ovviamente, alla prima configurazione del telefono. Dunque, si andrà tramite le impostazioni, in ID impronta, gestione impronta, inserirete il codice che avete messo sempre alla prima configurazione. E si potranno inserire esattamente cinque impronte. Dunque, ora ne cancelliamo una e vi facciamo vedere come si installa o si rimuove. Si rimuove, quindi, cliccando così e facendo elimina. Faccio già vedere, non le faccio rivedere. Invece, per la nuova impronta, si dovrà cliccare su nuova impronta. Mettere il dito che vogliamo configurare in questo caso, devo mettere questo perché gli altri li ho già configurati. Quindi, vi faccio vedere. Così. Ok. Ora ci dice di mettere il dito sul sensore. E cominciamo. Due. Ovviamente, il dito andrà posizionato e cacciato subito, in modo tale da registrare le impronte, in questo modo. Perdonatemi. Ecco qui. Dopo aver registrato, invece, le impronte, ci dirà di mettere la punta del dito, per riconoscere ancora meglio l'impronta. Non l'ho fatta. Ah, ecco qua. Dovrebbe essere andata. Ecco qui. Registrazione riuscita. Ma, seppur il telefono sembri tanto incompleto, ha tantissimi punti a favore. Come, ad esempio, il reparto fotografico. Infatti, il Huawei P8 Lite del 2017 ha la fotocamera principale da 12 megapixel, con un'apertura focale f2.2 e dotato di un singolo flash LED. La fotocamera anteriore, invece, è di 8 megapixel, che consente, dunque, di effettuare degli ultimi selfie. I video, invece, sono in full HD a 30fps per la fotocamera principale. Invece, per l'altra fotocamera, sono a 720p, cioè in HD, ma anch'essa lavora a 30fps. Vediamo quindi l'interfaccia grafica della fotocamera. La fotocamera, la si può raggiungere, ovviamente, andando dalla schermata, non principale, dalla lock screen. Ed eccola qui. Oppure la si può raggiungere sbloccando il telefono e, ovviamente, cliccando sul logo della camera. L'interfaccia della fotocamera è la classica delle motion UI. Quindi, scorrendo verso sinistra, troviamo tutte le modalità di scatto, come ad esempio la Profoto, la Video, ProVideo, HDR, panorama. E possiamo scaricarne altre, ovviamente, cliccando sul tasto Altro. Invece, scorrendo verso destra, troviamo altre impostazioni della fotocamera, ma quella che risalta più all'occhio è la risoluzione, in quanto possiamo scegliere il formato e i megapixel da utilizzare per ogni foto. Dunque, vi faccio vedere qualche scatto effettuato dal Huawei P8 Lite, ovviamente da me, e anche qualche video. Dunque, intanto vi faccio vedere, prima cosa di tutto, perdonatemi, come scatta le foto direttamente. Prendo la confezione, ed eccola qui, e facciamo, dunque, una foto. Anche la messa a fuoco risulta essere davvero molto pratica e veloce, infatti, guardate, e scatta subito la foto. Vediamo quindi come si vedono le foto. Allora, andiamo sulla galleria, ci dirigiamo sulla galleria, e vi faccio vedere prima qualche macro che ho effettuato direttamente io, come ad esempio questa. E come foto, davvero, oltre alla buonissima risoluzione, si vede davvero bene. Poi non poteva ovviamente mancare la foto ai peperoncini, in quanto sono un calabrese. E in tutti i casi la foto, ho fatto queste macro ed è davvero, davvero molto, molto dettagliata. Anche il colore sembra essere, sembra rispecchiare il colore naturale. Questa qui è una panorama, potete ben osservare. Questa qui è un'altra foto fatta. Questo qui è il mio buon vecchio iPad. E faccio vedere anche il video. Ecco qui, ed anche il video. Ora vediamo la foto che abbiamo fatto qui, direttamente. Come potete ben vedere, anche la foto risulta essere, con un punto scatta velocissimo, abbastanza, abbastanza buono. Il vero punto di forza, però, di questo Huawei P8 Lite del 2017, oltre al comparto fotografico, è sicuramente la batteria, che è di 3000 mAh. Infatti è molto duratura e garantisce una giornata intera di utilizzo. Se ovviamente viene utilizzata con, tra virgolette, parsimonia. Secondo, invece, i test da me effettuati, in base all'utilizzo che ne faccio io di uno smartphone, questo telefono l'ho staccato alle, diciamo, 9 di mattino, e alle 13 aveva esattamente il 65% di batteria, alle 18 ne aveva intorno al 40, e verso le 22 era già intorno al 10%. Ma per chi ne fa un buon uso, ovviamente, riesce a garantire anche oltre una giornata di utilizzo. In tutti i casi, un giorno di utilizzo, anche per gli utilizzatori assidui ed intensi, la riesce a garantire. Dunque, se questa video recensione è stata di vostro gradimento, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare il video, a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, a visitare il nostro sito che è www.victech.net ed, inoltre, vi invito anche a scaricare l'applicazione che trovate solo sul Play Store, che è questa qui. Ovviamente, se scrivete tramite il tasto cerca del Play Store Victech, il primo risultato sarà questo qui. Ovviamente, una volta scaricata, potete trovare tutto il nostro sito sull'applicazione. Dunque, spero che il video possa esservi stato utile e vi invito a visionare tutti gli altri video che sono presenti sul nostro canale e vi lascio al prossimo appuntamento. Io sono Salvatore per www.victech.net Grazie. Grazie.